Ci colleghiamo con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Buonasera signor Ministro, eccolo qua. Grazie signor Ministro per essere ancora con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Questa è una serata delicata, è un momento difficile. Noi abbiamo seguito il Covid al primo giorno puntualmente. Oggi sono stati contatti 7.569 nuovi casi, 55 posti in più occupati in ospedale. 5 posti in terapia intensiva in più, 36 decessi. Sale il tasso di positività dei tamponi molecolali, è passato dal 3.1 al 5.5 di questa settimana. La situazione in Italia, grazie alla campagna vaccinale, è migliore, molto migliore che in altri paesi, ma la curva è decisamente in aumento. In Veneto e anche in altre regioni si parla di riaprire reparti, ovvero i propri ospedali specializzati in Covid che erano stati chiusi. Si è parlato di regioni che rischiano di passare in fascia gialla. Tutto questo naturalmente adesso lo vogliamo ascoltare da lei. Ecco, una parola chiarificatrice. Sì, ha descritto puntualmente quella che è la situazione. Da diverse settimane in Europa c'è una fase di peggioramento del quadro epidemiologico. Questo era piuttosto atteso perché, come è noto, la fase autunnale e quella invernale sono quelle più complicate perché si sta più tempo al chiuso, si sta meno all'aperto e quindi c'è una maggiore facilità di poter avere occasioni di contagio. I numeri dell'Italia sono sicuramente più bassi di altri importanti paesi europei che stanno anche decidendo misure piuttosto robuste proprio in queste ore. Penso all'Olanda, all'Austria, ma c'è una riflessione anche in altri paesi. Però anche in Italia c'è una crescita del contagio che deve portarci tutti, credo, ad alzare il livello di attenzione. Come sempre c'è un pezzo che naturalmente devono fare le istituzioni e credo che noi lo stiamo facendo. Anche alcune delle scelte delle ultime ore, come ad esempio far partire la campagna per il richiamo dal primo dicembre anche per la fascia tra i 40 e i 60 anni, vanno esattamente in questa direzione. Poi, come abbiamo detto sin dall'inizio di questa storia, c'è sempre un ruolo fondamentale delle persone. Le misure precauzionali sono determinanti. L'utilizzo della mascherina in modo particolare è decisivo, il distanziamento, il lavaggio delle mani. Ecco, in questa fase io credo che le precauzioni siano davvero decisive. Voglio rifare un appello a favore della vaccinazione. Basta vedere i numeri che ci vengono da ogni angolo del mondo. La vera differenza, la differenza fondamentale, la fa il tasso di vaccinazione. I numeri dell'Italia sono molto positivi. Stasera siamo arrivati all'86,75% di persone vaccinabili che hanno fatto la prima dose e siamo arrivati a un 84,12% che ha già completato il ciclo vaccinale. Stiamo parlando chiaramente della popolazione sopra i 12 anni, quella che oggi è vaccinabile. Sono alcuni dei numeri migliori a livello europeo e a livello mondiale. Ma non dobbiamo accontentarci, dobbiamo insistere perché ogni vaccino in più ci consente di avere uno scudo più solido rispetto alle settimane non semplici che sono all'orizzonte. Io vorrei con lei, signor Ministro, affrontare proprio decisamente però le questioni anche pratiche che molti ci hanno sollevato questa sera. Lei, come ha giustamente detto, molti paesi stanno adottando restrizioni severe. Nel Regno Unito ci sono stati nell'ultimo mese quasi un milione di casi, sono registrati un milione di casi. Le notizie che arrivano dall'est europeo sono tremende. La Baviera ha dichiarato lo stato di calamità. Austria e Slovenia, paesi quindi molto vicini, sono in condizioni difficilissime per numero di contagi. Però da noi possono entrare tutti costoro semplicemente col Green Pass. Il Green Pass che equipara la vaccinazione a un tampone negativo, un tampone rapido negativo. Abbiamo detto cento volte che non è la stessa cosa. Un tampone rapido non è garanzia se non in quell'istante di non positività. Ma non vuol dire che non si possa essere contagiosi il giorno dopo o il giorno successivo. Ecco, state pensando a restrizioni per esempio da chi arriva da questi paesi? O al contrario per andare noi in questi paesi? Ma in questo momento l'Italia è ancora uno di quei paesi che ha conservato numerose misure precauzionali. Mi faccia dire una cosa, i numeri dell'Italia sono più bassi sicuramente per il dato straordinario di vaccinazione. Noi siamo otto punti avanti alla Germania, abbiamo più vaccinati della Francia, della Gran Bretagna, degli Stati Uniti. Però anche perché siamo stati un po' più prudenti con le misure. E le regole che ci siamo dati sono regole di maggiore cautela anche per gli arrivi dall'estero. Ancora oggi se una persona viene da paesi extraeuropei in Italia deve fare la quarantena di dieci giorni. In Europa abbiamo fatto un'intesa che invece consente di circolare con il Green Pass. Noi siamo stati fedeli a quest'intesa e riteniamo che sia importante, almeno nell'ambito europeo, mantenere una circolazione significativa di persone. È chiaro che il vaccino è l'arma fondamentale. Io sono d'accordo, i tamponi hanno sicuramente dei limiti. Ma la scelta che è stata fatta a livello europeo di commissione nel confronto tra i paesi fu una scelta che andava nella direzione di poter tutelare in qualche modo di più la mobilità. E questo io credo che sia in qualche modo comprensibile. Sì, ma certo, assolutamente sì. La domanda è una terra volta a un passo successivo. Cioè in Austria, anche in Sassonia credo, si è attivato un lockdown selettivo per i non vaccinati. In Olanda un parziale lockdown con chiusura anticipata per eventi sportivi e cose di questo tipo. Insomma, la domanda è questa. Data la situazione, dato l'arrivo del Natale, data un'economia che ha sofferto tantissimo, si sta pensando anche qui a Green Pass diversi, insomma a non mettere sullo stesso piano le due cose, proprio per incentivare la vaccinazione e anche per onestamente non esasperare ulteriormente chi di sacrifici ne ha già fatti tanti, chi si è vaccinato e che onestamente forse non ne può più di sentirsi dire che bisogna tutelare la libertà di chi non si vuole vaccinare. Ma in questo momento noi manteniamo le regole che sono esistenti, soprattutto quelle dei viaggi internazionali, su cui ribadisco noi siamo rimasti tra i più rigidi a livello, io penso, piuttosto globale. Dopodiché non vi è alcun dubbio che dobbiamo monitorare con attenzione l'evoluzione del quadro epidemiologico. Il paragone tra quei paesi e il nostro è un paragone che non può tenere. Voglio fare l'esempio dell'Austria. L'Austria ha poco più di 9 milioni di abitanti e fa 13 mila casi. L'Italia ha 60 milioni di abitanti, quindi sei volte quelli che fa l'Austria e ha ancora di 7.500, ha avuto 8.500 casi. Quindi c'è una differenza piuttosto marcata. Però noi dobbiamo continuare a verificare l'evoluzione della curva epidemiologica e chiaramente, come abbiamo sempre fatto in questi mesi, adeguiamo le nostre misure, le nostre indicazioni all'andamento della curva epidemiologica. Oggi la scelta di fondo che stiamo facendo è una scelta di accelerazione sui richiami. Abbiamo bisogno che tutte le persone del nostro paese che hanno fatto la dose unica o hanno fatto le due dosi, che queste persone dopo sei mesi vadano a farsi il richiamo. Il richiamo è molto importante perché ci può consentire di rialzare il livello di protezione. I dati che abbiamo ci segnalano che dopo sei mesi inizia una fase in cui scende la capacità protettiva del vaccino. non è la stessa cosa a tutte le età, quindi noi siamo partiti naturalmente da quelli che pagano un prezzo più alto, quindi dalle persone che hanno più di 80 anni, poi siamo scesi a quelle che hanno più di 60. Dal primo dicembre affronteremo anche la fascia 40-60 anni e questo è particolarmente importante. Dopodiché non vi è alcun dubbio che noi verificheremo l'evoluzione della curva e sulla base dell'evoluzione della curva faremo le valutazioni che saranno necessarie. Devo chiedere una cortesia. Abbiamo molte domande pratiche e vorremmo poi ribadire questo suo appello anche dopo la pubblicità, lo faremo anche insieme al professor Burioni, ma io devo mandare la pubblicità. Se lei è così cortese da aspettare qualche minuto continuiamo tra poco la conversazione. Grazie Ministro. Grazie. Rieccoci qua, buonasera di nuovo col Ministro Speranza che ringrazio per averci atteso. Ci ha raggiunto il professor Burioni, buonasera professore. Abbiamo fatto col Ministro il punto sui contagi e il Ministro ha lanciato un accorato appello ancora una volta per l'incremento delle vaccinazioni. continuerei proprio da qui perché dal primo dicembre saranno vaccinabili con la terza dose tutti coloro che si trovano fra i 40 e i 60 anni e molti Ministro ci hanno chiesto se prevale il primo dicembre o i sei mesi trascorsi dalla seconda dose. Cioè se io a oggi che è novembre ho già trascorso sei mesi dalla seconda dose posso farla subito o devo aspettare dicembre? Per la fascia tra i 40 e i 60 anni bisogna aspettare il primo dicembre. È chiaro che già in questi giorni si può contattare il proprio medico di medicina generale anche il farmacista oppure si può prenotare una dose che può essere somministrata dal primo dicembre in poi. In queste settimane noi stiamo provando a concentrare invece tutti gli sforzi sulla fascia di età un po' più avanzata perché è quella che può essere più fragile e su cui c'è maggiore urgenza di dare un ulteriore livello di protezione. Però dal primo dicembre tutti quelli tra 40 e 60 anni che hanno superato i sei mesi possono vaccinarsi e già in queste ore si può iniziare a prenotare. Ministro, mancano all'appello comunque più di 7 milioni di persone che continuano a non volersi vaccinare mettendo davvero gravemente a rischio innanzitutto la propria salute ma poi mettendo a rischio anche quella degli altri mettendo a rischio l'economia mettendo a rischio la libertà di circolazione e tutto ciò appare personalmente mi appare incredibile dopo quello che abbiamo sopportato in questi mesi, in questi anni. Ci sono paesi come Singapore che ha deciso che per coloro che non si vaccinano per scelta, per esempio, le cure non saranno gratuite si dovranno pagare da soli le cure non dovranno gravare sulla collettività tanto più che costoro peraltro occupando gli ospedali portano via anche posti ad altri malati che non possono essere curati. Ora mi rendo conto che insomma è una decisione forte ma insomma dimostra anche quanta insofferenza ci sia su questo tema perché non ci si pensa ma i nuvax che poi vengono ricoverati impiegano reparti, impiegano medici sottratti, l'abbiamo detto con il professor Mantovani la volta scorsa sottratti, medici sottratti agli screening oncologici a cure indispensabili ecco, ci sarà come dire una stretta in qualche modo intorno a chi non si vuole vaccinare per scelta? Guardi, allora che chi non si vaccina non aiuti se stesso e non aiuti gli altri e non aiuti il nostro paese non c'è oggettivamente alcun dubbio io tra l'altro sono stato dall'inizio insomma uno di quelli che più ha spinto sulla campagna di vaccinazione e penso che la stragrande maggioranza degli italiani questo lo abbia accorto mi faccia anche dire che proprio in questa settimana tra giovedì e venerdì noi continuiamo comunque ad avere delle persone che fanno la prima dose sono state per esempio 18.500 nella giornata di venerdì gli italiani che hanno deciso di fare la prima dose io voglio ringraziare anche loro che sono arrivati tardi ma che semmai si sono convinti hanno superato una paura e vaccinarsi è davvero fondamentale quindi ho una posizione molto netta al tempo stesso penso che la nostra Costituzione ci dia un messaggio che per me non è negoziabile e non può essere messo in discussione il nostro è un sistema universalista se una persona sta male è sicura non può essere una condizione che è stata quella del non vaccinato a metterci nelle condizioni diciamo di non curare questa persona o di trattarla diversamente io penso che quella impostazione sia oltre i limiti che la nostra Costituzione ci impone è una Costituzione che io condivido e difendo profondamente e penso che noi dobbiamo usare tutti gli strumenti dell'evidenza scientifica della persuasione facciamo un utilizzo in Italia molto robusto del Green Pass un utilizzo largo come c'è in pochi paesi mi faccia tra l'altro ricordare che proprio pochi giorni fa il Ministro dell'Economia e probabilmente il futuro cancelliere tedesco Scholz parlando al suo Parlamento ha detto che con tutta probabilità quando diventerà cancelliere attuerà il Green Pass anche per il lavoro e la scelta che noi abbiamo fatto a partire dal 15 di ottobre quindi io sono molto determinato e penso che dobbiamo insistere su questa linea con forza e con fermezza non la porterei al punto di dire che se una persona non è vaccinata noi non la curiamo oppure la mettiamo in condizione di non potersi curare perché come è noto poi ci sono cure che hanno costi enormi ma il Paese deve difendere il proprio impianto universalista per me questo non è negoziabile e guardi personalmente avrei tanti motivi anche di rabbia di arrabbiatura potrei farle vedere la quantità di lettere che ricevo ogni giorno da chi non è vaccinato anche con modalità che non sono esattamente serene e dialoganti però penso che la nostra Costituzione viene prima in Italia c'è una impostazione che per me non è negoziabile se una persona sta male va curata non conta quanti soldi ha il colore della pelle di chi sei figlio dove sei nato non può neanche contare se sei vaccinato o meno di fronte una persona malata ci si cura questo è il punto io ero viziato dal discorso che abbiamo fatto con il professor Mantovani la settimana scorsa perché quello che dice il ministro è ovviamente sottoscrivibile parola per parola ma è anche vero che poi queste persone però non consentono di curarsi ad altre persone che non accedono alle cure perché non ci sono medici a disposizione adesso non mi ricordo il numero che il professor Mantovani ci ha portato di mancati screening oncologici che vuol dire cancri che poi non vengono riconosciuti insomma queste persone in realtà a loro volta non possono accedere alle cure che la Costituzione loro invece dovrebbe garantire il non curare qualcuno perché non si è vaccinato è odioso e ci spingerebbe in una china pericolosissima poi non curiamo ma ti fuma però c'è un però in questo momento si stanno vaccinando 70-80 mila persone ogni settimana con la prima dose siccome sono 7 milioni quelli che ancora non si sono vaccinati ci vogliono 100 settimane io non credo che chi non si è vaccinato oggi si vaccinerà domani perché chi non si è vaccinato dopo tutto quello che abbiamo passato e in presenza di dati scientifici di sicurezza e di efficacia del vaccino io penso che non abbia fatto una scelta razionale quindi io ritengo che la politica deva porsi questo problema non è un problema scientifico ne poniamo intanto un altro al ministro ci si chiede ci hanno chiesto in molti di rivolgerle questa domanda cioè perché se la terza dose va fatta entro 6 mesi dalla seconda il green pass invece dura 12 mesi cioè se non sarebbe più come dire logico uniformare la durata del green pass alla durata dell'efficacia presunta della vaccinazione cioè state pensando di rivedere per esempio questo termine intanto i 12 mesi scadono dalla seconda dose quindi al completamento della vaccinazione del ciclo primario e questo in Italia come è noto è avvenuto per i primissimi nella seconda metà di gennaio quindi nessuno ai 12 mesi l'indicazione che ci ha dato il comitato tecnico scientifico nel mese di agosto è stato che si poteva estendere a 12 mesi è chiaro che noi lo valuteremo anche sulla base delle nuove evidenze scientifiche e del quadro epidemiologico del nostro paese la raccomandazione che noi diamo è una raccomandazione forte e dopo sei mesi andare a prendere il richiamo perché anche il richiamo è fondamentale io penso che questo sia il messaggio di fondo che noi abbiamo dato nelle ultime giornate che stiamo dando anche in queste ultime settimane in cui c'è stato un peggioramento del quadro epidemiologico e credo che le persone che si sono già fatte due dosi o una dose unica debbano tenere fede a questo tipo di raccomandazione Ministro l'Istituto Superiore di Sanità ha mostrato che il maggiore incremento di casi nelle ultime due settimane è nella fascia fra 0 e i 19 anni molti non possono vaccinarsi perché sono appunto under 12 ma i ragazzi passano tante ore in classe non c'è l'obbligo di Green Pass per andare a scuola si sta parlando di estendere appunto anche la vaccinazione ai bambini fra i 5 e gli 11 anche qui dato l'incremento dei contagi quali sono le novità? Noi aspettiamo un pronunciamento ufficiale di EMA che pensiamo possa arrivare nelle prossime settimane e che darà probabilmente il via libera alla vaccinazione nella fascia tra i 5 e gli 11 anni appena questo pronunciamento di EMA sarà ufficiale noi come autorità sanitaria del paese quindi a partire da AIFA daremo un'indicazione di procedere anche a questo tipo di vaccinazione in queste ore c'è un confronto con i rappresentanti sia della società scientifica di pediatria del nostro paese che i rappresentanti dei pediatri di libera scelta del nostro paese per accompagnare questa decisione anche con una capacità di dialogo con le famiglie io penso che questo sia corretto ma se come crediamo sia molto probabile l'indicazione di EMA e di AIFA sarà nella direzione di andare avanti con questa vaccinazione noi sicuramente inizieremo anche quest'altro pezzetto di campagna nel nostro paese e lo facciamo prima di tutto per proteggere quelle persone io vorrei essere chiaro su questo anche oggi nel nostro paese in Italia ci giungono notizie di persone sotto i 12 anni che purtroppo finiscono in terapia intensiva quindi non dobbiamo immaginare che i più piccoli siano esenti dai rischi del covid i rischi ci sono se abbiamo un'autorizzazione che ci consente di proteggere i più piccoli io credo che abbiamo l'obbligo morale di metterci nelle condizioni di farlo professor Bugali tra l'altro a questo proposito perché c'è questo incremento nei più piccoli e poi siccome proprio non c'è l'obbligo di Green Pass per andare a scuola noi non sappiamo se chi è vaccinato i nostri figli vaccinati magari siedono accanto a ragazzi non vaccinati che ancora una volta insomma mette a rischio la salute di chi si è vaccinato quindi insomma tutte le malattie infettive nessuna esclusa trovano nelle scuole il motore principale della loro diffusione questo vale per dall'influenza valeva per il morbillo quando non c'era un vaccino quindi il vaccinare le persone che vanno a scuola che si possono vaccinare perché in questo momento non abbiamo l'autorizzazione sotto i 12 anni e non bisogna mai forzare la mano agli antiregolatori attendiamo serenamente il fatto che peraltro hanno già cominciato negli Stati Uniti ci permetterà secondo me di avere anche un po' di sicurezza in più perché ci sarà un'ampia casezza ecco ma col virus che muta per esempio col virus che muta e che trova bambini o ragazzi non vaccinati aumenta il rischio appunto di contagio di pericolosità per questi per questi bambini per questi ragazzi il virus che circola in Italia adesso è esclusivamente quella che viene chiamata variante delta non sembra essere un virus più pericoloso ma è un virus estremamente contagioso è contagioso oramai quanto la varicina quando la varicella arriva in una classe molti la contratti sappiamo anche che molti green pass poi non vengono controllati sui mezzi pubblici insomma a me non è mai capitato di essere scontrollato sui mezzi pubblici alcuni ristoranti sì alcuni no insomma anche questo è un problema ministro il controllo dei green pass appunto nei luoghi affollati penso metropolitane mezzi pubblici ma il green pass è obbligatorio nei mezzi pubblici a lunga percorrenza nel nostro paese questo prevedono le disposizioni che abbiamo oggi a me ha fatto sorridere qualche settimana fa una dichiarazione del ministro tedesco della salute in conferenza stampa che ha detto che ha avuto più volte controllato il suo green pass in due giorni erano i giorni del G20 che in Germania in un mese io penso che noi dobbiamo far rispettare le norme che sono vigenti il green pass è obbligatorio per i ristoranti è obbligatorio per i palazzetti e lo sport è obbligatorio per i luoghi di lavoro e io penso che noi dobbiamo far rispettare fino in fondo questa norma la stragrande maggioranza del paese lo rispetta ed è proprio questo che ci sta consentendo di stare un po' meglio di altri paesi io lo ribadisco l'utilizzo del green pass ha una doppia funzione la prima è rendere più sicuro quel luogo dove il green pass è utilizzato c'è un luogo dove la percentuale la possibilità di poter contrarre il contagio è un po' più bassa oggettivamente non è azzerata evidentemente ma è un po' più bassa e poi chiaramente il green pass ha avuto una funzione di stimolo importante alla vaccinazione grazie al green pass sono arrivate numerose ulteriori prime dosi e io credo che dobbiamo insistere nell'utilizzarlo perché è uno strumento che ci sta consentendo di gestire questa fase di recrudescenza significativa che è in corso mi pare di capire che sia difficile se non impensabile fare controlli anche sui mezzi pubblici come abbiamo visto in questa fotografia che pur non essendo a lunga percorrenza però sono molto affollati insomma che poi è un luogo probabile possibile di contagio insomma è impensabile sì come dicevo in questo momento nelle norme vigenti nel nostro paese non c'è l'obbligo di green pass per un autobus urbano c'è l'obbligo di green pass per un treno per un aereo per un traghetto per i mezzi a lunga percorrenza ma mi chiedevo se lei stava pensando di estendere la mentale è che mi chiedevo se lei stava pensando di estendere appunto controlli anche sui mezzi urbani ma i controlli vengono fatti rispetto alle ulteriori norme che lì sono vigenti che non hanno a che fare col green pass hanno a che fare con sanificazione necessità di avere dispositivi di protezione a bordo che sono fondamentali anche qui tra le distanze e le differenze tra il nostro paese e gli altri c'è anche aver rilasciato con maggiore gradualità tutta una serie di misure l'Italia è stato un paese in cui per esempio la mascherina al chiuso è sempre rimasta la mascherina sui mezzi pubblici è sempre rimasta se è capitato a qualcuno di andare in Gran Bretagna si saranno resi conto che a Londra per esempio la mascherina sulla metropolitana viene consigliata ma non è obbligatoria in Italia invece è obbligatoria allora io penso che dobbiamo far rispettare tutte le norme che sono vigenti e penso che questa modalità dell'Italia più cautelativa più prudenziale gli stadi in molti paesi europei sono al 100% in Italia siamo arrivati tra gli ultimi all'80% e non abbiamo in programma di aumentare la capienza cioè l'Italia ha beneficiato prima di tutto di una straordinaria campagna di vaccinazione che ci auguriamo possa ancora crescere ma anche io penso di una maggiore gradualità nel rilascio delle cosiddette misure non farmacologiche che poi sono le misure che abbiamo imparato a conoscere nei mesi più difficili e che io penso ci servono ancora a partire e lo ribadisco dall'utilizzo della mascherina e mi faccia dire perché è un'occasione utile che la mascherina è obbligatoria anche all'aperto quando ci sono possibilità di non poter rispettare la distanza di un metro la mascherina è sempre obbligatoria al chiuso ma è obbligatoria anche all'aperto quando c'è un rischio di assembramenti quando c'è il rischio di non poter rispettare il metro di distanza e la mia fortissima raccomandazione soprattutto in questa fase di recrudescenza del virus è di usare la mascherina il più possibile perché la mascherina è uno strumento davvero essenziale per poter ridurre la possibilità di essere contagiato le pongo un'ultima domanda il ministro Di Maio ha detto faremo di tutto perché non si arrivi a restrizioni natalizie è chiaro che il Natale si avvicina è un'occasione per l'economia importante i numeri però le proiezioni parlano di contagi molto più alti di questi odierni e per allora cioè si parla di ho letto numeri diversi ma insomma fra i 20 e i 30 mila contagi al giorno insomma è una stima quindi importante preoccupante io non so se lei ce la può confermare ma la domanda che le voglio fare per esempio è secondo lei come sarà questo Natale lei consiglia di andare in vacanza per esempio chi vuole andare in vacanza può prenotare adesso è meglio aspettare essere prudenti lei che Natale immagina per gli italiani? ma guardi dipende da noi purtroppo come abbiamo imparato in questi mesi l'indice RT che ci sarà tra dieci giorni o l'incidenza l'indice del contagio non è dato non è già deciso dipende da noi e i due fattori essenziali sono la campagna di vaccinazione e quindi per esempio avere questa dose di richiamo appena appena scattano i sei mesi appena c'è la possibilità a seconda dell'età che si ha è fondamentale è così come l'utilizzo di tutte le modalità comportamentali corrette che ci possono aiutare la mia personale opinione è che se noi continuiamo a insistere sulle dosi di richiamo che sono essenziali sulle prime dosi io ringrazio anche chi è arrivato per ultimo i 18.500 di venerdì per me quella è un'altra conquista che va nella direzione giusta dobbiamo continuare a convincere le persone e qui c'è un ruolo fondamentale dei nostri medici di medicina generale che possono aiutarci nel rapporto diretto con le persone se noi continuiamo ad insistere con numeri alti di vaccinazione comportamenti corretti possiamo limitare il più possibile le restrizioni come è stato esattamente nelle ultime settimane però dipende da noi ecco non è che è già scritto in cielo quale sarà l'indice del contagio tra un mese l'indice del contagio tra un mese dipenderà dai nostri comportamenti e dalla campagna di vaccinazione io ho visto che nei momenti delicati la stragrande maggioranza degli italiani ha capito fino in fondo la posta che c'è ed è stato all'altezza delle sfide che c'erano la stragrande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata straordinaria si è vaccinata quando abbiamo chiesto di essere più attenti con le mascherine e col distanziamento la stragrande maggioranza delle persone lo è stato allora il mio messaggio di stasera è questo arriva un'altra curva piuttosto insidiosa nelle prossime settimane non possiamo immaginare che quello che avviene in Germania o anche in Francia che ha numeri più alti dei nostri o in Gran Bretagna non ci riguardi l'Austria è vicinissima l'Austria è un paese per noi molto vicino e lo ribadisco con un sesto degli abitanti hanno più casi di noi e allora è evidente che dobbiamo alzare l'attenzione devono farlo le istituzioni e io farò tutto quello che è necessario in questa direzione anche approfondendo tutte le tematiche che abbiamo discusso oggi giorno dopo giorno con i nostri scienziati ma poi c'è un ruolo determinante delle persone è il momento di usare di più la mascherina di avere più cautela sul distanziamento ed è il momento soprattutto di fare la dose di richiamo alle categorie raccomandate e per chi non l'ha ancora fatta ancora un appello ad andarsi a vaccinare perché quello è lo strumento essenziale per reggere questa sfida che sta ancora arrivando grazie signor Ministro la disturberemo ancora prima di Natale sperando che possa essere ancora con noi e dal primo dicembre dai 40 e 60 anni mi raccomando la terza dose grazie Ministro Speranza davvero grazie